Una grandiosa chiesa, prima fra 14 che sorgeranno alla periferia di Milano, è stata inaugurata da Sua Maestà la Regina Imperatrice. La sovrana, ricevuta al suo arrivo da Sua Altezza Reale il Conte di Torino e da Sua Eminenza il Cardinale Schuster, arcivescovo di Milano, ha presenziato il rito che consacrava il nuovo Tempio alla gloria di Santa Elena Imperatrice.